Sono Lorenzo Tazzieri, direttore d'orchestra e ambasciatore di Genova nel mondo. Vorrei esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i partner internazionali del Geno International Music Youth Festival, grazie ai quali abbiamo stretto importanti protocolli d'intesa negli ultimi anni e che ora serviranno anche per ripartire dopo questo momento di grave emergenza. Grazie a tutti e ci vedremo presto. Rivolgo a nome della città di Genova e dell'amministrazione comunale di Genova un saluto e un ringraziamento a tutti i festival partner del nostro Genova International Music Youth Festival. Un legame attraverso l'arte, attraverso la musica che unisce le nostre città in un rapporto di amicizia e di collaborazione. Un caro saluto e un arrivederci a Genova. Un saluto e un occupinhas inteanche le nostre città di Giuseppe. Sì, non è vero, è vero, è vero, è vero. Sì, non è vero, è vero. Non è vero, è vero. Non è vero.